Senti, una cosa solo, ci sono mercoledì, un pomeriggio, una conferenza regionale sulla messa in sicurezza dei fiumi e degli assanti, ha già fatto una delibera, che però voglio che sarà, diciamo che l'annunci tu, non la voglio dare, però io ce l'ho già da quel giocatore, ce l'ho, no, no, la sto rendendo pubblica perché voglio che, ognuno deve fare il proprio lavoro. Quindi c'è la costituzione di un gruppo di lavoro che risponde direttamente alla presidenza per convocare la conferenza nel giro di qualche mese. L'obiettivo è convocare una conferenza per coordinare e decidere gli investimenti e cosa fare, prima questione, seconda questione, la costituzione presso la presidenza di una cabina di regia sulla questione di sesto del religio logico e la messa in sicurezza dei fiumi, di coordinamento presso la presidenza della regione, ok? E lui l'ha fatta. Terzo, un accorto sugli indennizi, quando parliamo di indennizi parliamo dei privati e parliamo del fatto che, fatto pari che fra il 2011 e il 2013, ammetto di quello che sta succedendo adesso, le tre alluvioni del 2011 e del 2013 per i privati hanno comportato danni accertati da loro per circa 45 milioni dievoli.